Ciao ragazzi, un saluto da Zebra Bianconera, allora... Bene ragazzi, oggi vi è stata la sentenza del giudice sportivo. Bene, nella sentenza è stato deciso... 3-0 a Tavorino, la vittoria per 3-0 a Tavorino per la nostra Juventus e un punto di penalizzazione per il Napoli. Bene ragazzi, per chi non rispetta il protocollo, questo ci vuole, questo ci vuole ragazzi. Quindi, 3-0 a Tavorino, vittoria per 3-0 a Tavorino per la nostra Juventus e un punto di penalizzazione. È stato deciso oggi nella sentenza del giudice sportivo. Quindi ragazzi, giustizia è fatta! Bene ragazzi, con questo è tutto, vi auguro una buona serata, iscrivetevi al canale YouTube e seguitemi anche su Instagram, su Zebra, tra tiro a basso, bianconera. Fino alla fine, forza Juventus, buona serata a tutti ragazzi, ciao!